la variante è stupido quel sasso lì ma è quel sasso qua che ti sballa tutto perché se non c'era bravo appoggia il davanti che crea le pedivelle che costano hai capito? devi sottare davvero la fiducia come fa lui ti arrivi lì perché tu lo vedi scorto visto che sei arrivato te? eh sì perché tu puoi indietro porta tutta